Guarda fino alla fine per vedere l'ultima quinta evoluzione di Katnack. Fratelli. Sì. Dobbiamo entrare in questo parco giochi e scivolare dalla diapositiva estrema. Controlla prima la tua altezza. Facile. Non puoi andare. OMG. Bene. Io accanto. OMG. Vai. Ottimo. È così triste e non poter divertirsi con loro. Oh, ragazzo incondotto. Non so, sembra un po' suspecato. Hai, qualcuno mi ha colpito. Oh, primo ragazzo, devi usare il nostro parco giochi. Aspetta un attimo. Scegli uno. Voglio il verde. Andiamo. Scivolo. Divertiti a... Dove sono? Faccia da anatra o piccoli? Non è... O no, odio i cetrioli sott'aceto. Non è divertente. Inferno o alto? Alto. Non è buono. Vecchio o giovane? Giovane. Sono un brutto bambino. Sbalzo. Sono troppo spaventoso. Fuoco o essere buono. Buono. No, voglio essere buono colpa mia. Non cattivo. Cosa mi hai fatto? Ah, questo è solo il tuo primo livello. Fammi entrare. Vai. Fratelli. Fratello. 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 Mi avete lasciato prima del tempo per la punizione. Ragazzi, volete scivolare? Un me cosa? Questo non sembra buono. Non mi interessa. No. Ah. Dove sono? Slime. O no, ho dell'acqua in bocca. Sono la regina. Blu o verde? 100% blu. Oh my god! Wow, sembro blu. Grande o piccolo? Grande. Nessuna differenza. Pericoloso o no? Pericoloso. Non voglio sembrare così. Carino o bruto? Brutto. Carino. Tempo di teletrasporto. Sì, Shrek. Denti di squalo. Arancione o senza occhi? 100% arancione. Aiutami. La mia testa. Mani di Gekko. O faccia spaventosa. Gekko. Abbaio. Lava o acqua? Lava. Ok, sembro spaventoso. Roblox o mani? Mani. Grassoccio o magro. Cosa è questo? No. Occhi grandi. I miei occhi vedono tutto. Oh my god! Viola o blu? Viola. Mi piace. Mani lunghe. E gambe lunghe. Ok. L'ultimo. Vivi nelle fogne o in un McDonald's? Fon. Andiamo. Oh no. Ci ha cambiato per sempre. Mamma. Mamma. Oddio. Che cos'è questo? Ci cambia. Sì. Sembri brutto. Dove sono i nostri figli? Dieci anni dopo. Primo giorno di scuola. Ah, sembrano strani. Cosa? No, per favore. Per favore no. No. Per favore. È ora di passare al secondo livello AA. Andiamo. Sento qualcosa. Ora che? Wow, è stato pazzesco. Dobbiamo arrivare al livello successivo. Aspetta. Se volete il prossimo livello dovete trovare le porte. Oddio. Lo troverò io per primo. Eccoli qui. Entriamo. Sto avendo problemi. È stata una cattiva idea. Muscoli grandi o capelli di Chad? Muscoli. Gambe lunghe o testa grande? Gambe lunghe. Forte. Forte. Sono troppo grande. Essere un Gigachad o avere la mano più grande? Gigachad. Aiutami. Denti affilati o grasso? Sono troppo forte. Devo essere grasso. Grande cervello. Sono in forma. È il mio turno. Penso che sia qui da qualche parte. Mi dispiace. Eccoli qui. Aspetta. Questi non sono i miei. Muoviti dal mio cammino. Tempo di entrare. Eccoli qui. Oh no. È ora di entrare. Sono pronto. Ah, sei l'unico noob che non ha avuto l'evoluzione. Non riesco a trovarlo. Meglio fare presto. Ah, i fratelli. Aspetta, vedo. Eccoli qui. Ah, ora che... Metti mi piace e iscriviti e domani ti sveglierai con così tanti Robux. Oh no. Oh no. Oh no. Ehi, cosa sta succedendo? Insegnante. Mi dispiace. Vieni alla lezione. Adesso. Ok, ti diamo A e O ti caccio dalla scuola. Figlio, vieni prima. Ciao papà. Era estremamente intelligente. Odiava gli studenti stupidi. Figliolo, chi pensi che sia stupido? Loro. Bravo ragazzo. A e. Amava suo padre perché gli dava A e tutti i giorni. Questo è così dolce. Prendi questo A e. Grazie papà. È stato trattato meglio perché suo padre è un insegnante. Non è vero. Io ti tratto allo stesso modo. A e. Ok, è il momento della parte negativa. Aveva la rabbia. Aspetta cosa? Cosa mi hai fatto? Cattivo. Era sempre il più alto nella stanza. Oh my god. Io sono il più alto. No, io. Non puoi essere più alto di me. Cattivo. La sua ultima evoluzione sarà la cosa più spaventosa che abbiate mai visto. Mostrami. Non posso. Ma posso spaventare? No. Mi hai spaventato. Ti caccio dalla scuola. Ah, chi è il prossimo? Per favore non io. Vieni blu. Era disgustoso e le ragazze scappavano da lui. Ciao ragazze. Brutto. Tu. Smettila di spaventare le nostre studentesse. Cattivo. Il suo alito uccide le persone. Mostrami. Disgustoso. Non sa leggere. Il suo cervello è piccolissimo. Oh, che cervello piccolo. Calcio. Ne sono rimasti solo due. È il più veloce della scuola. Fammi vedere. Ok. È davvero veloce. Bene. Mi piace a e. Grazie. I suoi voti sono FFFF e F. Bravo. Per questo motivo. Devo darvi un calcio. È diventato un bullo dopo essere stato vittima di bullismo. Oh no. È troppo. Calcio. Ultimo. Sembri un nerd. Mi dispiace. Ah. Fermati per favore. Era estremamente solo. Era estremamente stupido. Oh my god. Non piaceva a nessuno e non aveva amici. Calcio. Aspetta perché. E siamo chiusi. Il poliziotto sta dormendo. È ora di uscire. È vero. Chiave. Tempo di aprire. Sono scappato. Trova il mio adesso per favore. Ok. Oh no. Sta dormendo. Tornate indietro. Ma... Apri velocemente. Sì. Sono due rimasti. Non scapperai dal carcere. Oh no. Sta arrivando. Ehi. Ecco la chiave. Fermati adesso. Criminale. Ok. Calma. Ah. Ti ho preso. Salto di popcat. Ok. Usciamo. Ok. L'ultimo. Dove è la mia chiave? Ehm. Guarda nei luoti. Bro. Usciamo. Ah. È tempo per il prossimo livello. Ok. Siamo grandi. Ma come possiamo ottenere la prossima evoluzione? Ehm. Cos'è questo? Se vuoi una nuova evoluzione devi raccogliere tutte le mascotte. Sono davvero difficili da trovare. In bocca al lupo. Aspetta un attimo. Aspetta cosa? È il momento di trovare tutte le mascotte. Vieni da papà. Ah. Sembrano strani. Oh. Ho dolore ma l'ho presa. OMG. Vogliamo questa evoluzione. Qui. Sono troppo grande. Un'ora dopo. Finalmente. Ok andiamo. Ok andiamo. Qui. L'ho preso. Oh my god. Oh mio dio la mia evoluzione è spaventosa. Oh mio dio eccolo qui. Se vuoi combattere contro di me. Facile. Wow. Ok. Ho la sfida più difficile. Ah noob non hai l'evoluzione. Ah noob non hai l'evoluzione. Ah non hai l'evoluzione. Ehi. Fermati. Wow. Prendilo. Ehi. Prendilo. Mai. Come? Come? È facile. Salta semplicemente. Ah. Facile. E l'ultimo salto. Wow. Sembro fantastico. Il giorno dopo. Creature selvagge stanno distruggendo Brookhaven RP. Sì la polizia dovrebbe fare qualcosa. Quindi non uscire. Ehi. Dovremmo divertirci sul parco giochi. Scivolo. Ah. 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 Sei arrestato. Cosa? Il giorno dopo. Ok. È il momento di giudicarvi. Stava catturando le persone alle porte e poi le distruggeva. Stava schierando mostri dalle sue porte per uccidere le persone. Wow. Ha preso mille anni di carcere e poi è fuggito. Are you serious right now bro? Ok. Per me è disgustoso. Rosso. No per favore. Ah. È il tuo turno. OMG sei così grande. Erano controllati dal dottore. Sono fuggiti dal carcere trovando tutte le chiavi. Sono diventati da neonati a mutanti. Ok. Il mio verdetto è. Devi trovare l'amico rosso e distruggerlo per quello che ti ha fatto. Cosa? Grazie. È ora di partire. Oh la maga! Ah. Ora ti cambia? Non, 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 non. C'est pronto a cambia? No. No per favore. Esis. Brr. Perchè c'è di così bassa qualità? Non voglio assomigliare a questo. MMM, ok. Ragazzi, con ogni regolace e infrangette diventa più realistice. Eh, puto, eh! Ok, non diamo fratelli. Spero che sopra vivrano a questo creatore di costi mio fratelli. Prima di tutto niente spaventi. Facciamolo. E ora di si vola. Spavento. Solo fata. Aspetta. Sento qualcosa. Wow, siamo più qualificati. Ora e il momento di infrangere la prossima regola. Prossima persona invisibile. Isi sono le bosioni dell'invisibilità. Wow. Essi una persona. Eh si. Dobbiamo prenderlo in giro. Sento qualcosa subito. Smeti la subito. Oh, ma guarda! Si, abbiamo sconfitto il bulo. Sento la prossima evoluzione. Wow. Sambriamo amici arcobaleno del supermercato. Proxima regola. Non usarla si volo vicino al laca. Ciao, possiamo entrar. No. Eh si. Eh, fratello. Ok, ragazzi adesso e il momento. Si. Wow, questa è la mia si volo. Entra. Oh wow. E la spanza. Aspetta. Ragazzi non si vola. Che cosa. Non ti sento. Cosa è successo. Ragazzi questo posto non è normale. Oh, ma guarda! Ma. San nesca. Cosa stano facendo? Devo distruggerli. Proxima regola non si volare con 4 persone contemporaneamente. Ok, non diamo. Ciamo blocate. Ehi, va tendacchi. Non possiamo. Faro una punizione perte. Tempo di si volare. Cosa stano. 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 O.M.G. Il prossimo non l'anciare pechinella piscina. O.S.Qualoki. Andiamo. Facile. Wow, la il fatto di rosso. Silofato. Asciamo diventando più simili a per i rainbow friends. Rompiamo di più. Messina persona grassa che salta melaka. Ok? Mettiamo del cibo. Abbastanza. Mangiamo. Oddio. Cosa stano pronto. Andiamo a saltare. Non, controlla il tuo pezzo. Vediamo. Oddio troppo. Non poi andar. Lofaro. Ciao. Cosa. Salta. Salta. Un bel salta. Grazie ragazzi. Proxima evoluzione in arrivo. No. 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 Non. No. 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 Ok, ce l'abbiamo fatta. Sambriamo super rius. Opora di cosa a cadra dopo aver affrontato la prossima regola. Niente personaggi. Posso andare. Contro la tua altezza. Bene. Il mio turno. Bene. C'est troppo alto. Forza verde. Si vola. Proxima regola affronta non si posso credere. Nuova evoluzione arrivo. Ragazzi smettla. Il mio capo si sta a rabbiando. Non si interessa. Abbiamo bisogno della prossima evoluzione. Oddio. Questo è così realistico. Oddio questo è di più. Fantastico. Sambriamo tutti troppo belli. Non andare dalla parte spagliata dello cibolo. Ok, e lo proviamo. Ha funziona. Va bene e nella mia trappola. Prendilo a rancione. Va bene. Dove sono. Aspetta ci so accent gradi e tro di me. Mi piace inscriviti prima di jumpscare. E lo vedo la fine. Oddio. 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 Unio turno. Sì lo fatto No sono rimasti solo 5 Vediamo la prossima evoluzione Wow siamo così realistici Non preoccuparti Affrangeriamo la prossima regola Nessun fantasma nel parco joshi Prostiamo un diamo dentro Eh sì, e inianta abiti da fantasma Ok allora guardami Ok cosa Spaventiamo alcuni bambini Spaventiamo da lui Faro aggiungi scar Proxima regola affronta Facile Ok fattu perché non stiamo aggiornando Rompiamo tut le regole E vedremo Per vedere perché Ok nessina magia sullo si volo Stiamo evocando il fantasma Sì, viene qui fantasma Et troppo tempo per chirar mostri Andiamo fantasmi Per favore fantasmi Affinzionato Corri rosso Qu'è sto parco aquatico sembra brutto Ma la prossima regola affronta Poi non entra nel condotto Ok vediamo E con il condotto Andiamo Ono stano arrivando Si sono salvo Qu'è sto posto essi Di regola rimasta Nessun combattimento E si E voi combattere Mi ha fatto mal Malai roto Ancora uno Ah si Ultima regola Non distringer Il parco joshi Per distringer Il parco joshi Devo salta E naito E salta Sesso Oh my god Ah si Invoca a nipo E l'hosto faccio Smetila subito Fermat Aspetano E la mia occasione La diamo fatura è tempo per la prossima evoluzione Sombra Rolistico Proximo Odio tocaram Anciamia Rosse Cambiata Sombriamo Mezzurri Andiamo Akasa Doxiamo Insilo Ce voyotner La prossima evoluzione Devo valutarti Era super Belos Soto la machera Aspetta fami vedè Vero Bleu Oni ragazza Vuola braxiarlo Usir da lui Fa piu mal A te chéano Era così popola Che issu Afan distrusro la sua casa Aspetta cosa E si E lui E lui E lui E lui E lui Cosa sta succedendo Questa è triste ma ancora una volta non è male Stava mangiando o miro E lui Ok prima mal Ma come un buono Grazie Wow c'è più realistico Lui è bello Lui è bello Sono bruto Non c'è brutto Vesula terra per ottenere l'ultima evoluzione Proxima persona Stava usando dal condotto Si sposo aiuta Grazie Mi hai salvato la vita Nessa un problema Bene Calcuno ne la vita real si è transformato in l'hyperigiorno d'Occeto Oscar Ceto Wow c'è ispirando i bambini Bene Nessuno la amato per tuta la sua vita Aspetta mostramlo Amo lascula Ce se kion Sono così triste Ok Cesto è molto triste Bene E Bruto sotto la machra Bruto sotto la machra va bene Cesto è molto triste Ma non male fratello Grazie Questa è la sua faccia nella vita reale Non c'è brutto Proximo Mi dispiace perte Tutti e lo prendo vanno in giro perché è alto Fratello e lo prendo a puni Ti stavano maltratando senza motivo Steri se vando una punizia Ono no che cosa no Stava cercando di ottenere l'ultima evoluzione diventa rumano Mostrami qu'elle evoluzione Wow questo è strano Da non realistico a realistico E diventato estremamente triste dopo Che tutti hanno iniziato a odiarlo Sto piangendo è così triste Era altissimo ma si è pompato è diventato fortissimo Fantastico bene Oh wow il tuo fan di minocraft Fantastico bene Stava trasformando i bambini in giocatoi E diventato mutando dopo aver deluto una posione statica E cativo E una posione normale E M Cosa accent grave questo Stava affrangeando tutta le regol del parco Gioshi per ottenere l'ultima evoluzione diventa real Di nuovo ma Il tuo passato non sembra buono Kondo a giocato anascondino a ottenuto Il suo posto Fa bene male Rosso Ok il prossimo Ragazzo Rosso E diventato super realistico ma volva esser di Pio Pio trasformarsi in civolo La sua evoluzione mutant terra schifosa Ok voglio veder la tua evoluzione Kendi va buon fine Il tuo volto della vita Eh si Va da trovar a evoluzione miti Va bene Per ottenere l'ultima evoluzione E necessario raccoblir tutti glissiboli Noello faro Noello faro Noello faro Ok il mio reproprioli Capito E non sembra realistico sono stato trufato Primaio Quello dicui o bisonno per star Meglio Non sembra realistico ma volva esserci E non sembra realistico ma volva esserci E non sembra realistico ma volva esserci Questa è la mia evoluzione Vecchi amici arcobaleno sono noiosi Abbiamo bisogno di qualcosa come loro Bambini Entrate Wow sono il primo Ciano o rosso Due occhi o uno Due ovviamente Bello Cesta di banana o normale Wow Prossimo denti o un dente Un sacco di denti Bello Scia blu o nessuna scia Lingua lunga o cuore Cosa Dovrebbe essere lungo Bru E l'ultimo Coda o spine Coda Usciamo Sono il prossimo Gambe o ali Ali Wow Occhiali da sole o occhi Occhi ovviamente Che diavolo Prossimo elica di elicottero o la cosa Elica Wow Testa di uomo o testa di gecko Gecko Wow Giallo o rosa Giallo Wow Sono giallo Sono il prossimo Cosa diventerò Sedia del re Wow sono il re Corona o cappello Smetti di cappello Solo corona Un occhio o caramella Prossimo Nubo o acqua dalla bocca Acqua Ok e prossimo Blu o cacca Blu Sono pronto Sono il prossimo Gambe da ragazza o dottore Gambe da dottore Figo Cosa è questo Sto scegliendo questo Figo Testa rossa o faccia felice Testa rossa Bru Non posso vedere Non ho occhi Wow Prossimo Cravatta o scarpe Cravatta Pistola o questa cosa Questo Ok andiamo Sono il prossimo Ratto o testa Testa Bello Seconda testa O uccello OMG Testa o cacca Terza testa Quarta testa Wow E ora Occhio colorato Entrambi Bello e ora gli occhi Bello E l'ultimo Carrello Sono il prossimo Dottore Capelli bianchi o normali Bello Barba o barba Questo Bello Occhiali o no Occhiali Camicia Oddio Mancano solo i pantaloni Sono pronto Ok sono il prossimo Verde Denti o dente Dente Forse denti Lingua o no lingua Occhi piccoli o grandi Questa trama Verde E corpo lungo Occhi grandi o piccoli Grandi ovviamente Prossimo viola o giallo Viola Braccia lunghe o corte Lunghe Wow Gambe lunghe o corte Lunghe Wow Molti denti o un dente Molti Wow sono perfetto Sono l'ultimo E ero nel capitolo 2 Quindi prima testa di Gekko O cane Gekko cos'è questo Occhi grandi Coda verde o arancione 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 o viola Arancione Pelo arancione E ultimo Grandi denti Wow Ok siete tutti pronti E ora facciamo fuori Alcuni di voi Baby blue Il prossimo Giallo Ma vecchio Teste nel carrello Sapete una cosa È ora del mio preferito È ora per l'amico rosso Prossimo amico arancione Giallo Ok ora è il momento Per i ragazzi più grandi Blu sulla sedia Wow quindi ora Viola Sei così alto Oh my god Fa male E l'ultimo Verde Non mi piaci Tu e tu Ma tutti voi Andate al capitolo 2 Aspetta Tu e la tua squadra Siete arrestati E ora sarete Tutti valutati Iniziamo con te OMG Prima di essere Ciano E l'arancione Ma l'amico rosso Lo ha cambiato Ah cambiamo te Bello Questo è buono per me Ha mangiato l'amico verde E poi lo ha vomitato Giorno normale negli amici arcobaleno Ah ho fame Per favore no Giorno dopo I amici arcobaleno Non lo hanno spaventato Ma lui li ha distrutti Non puoi scappare Non puoi scappare ora per dentro Non puoi scappare ora per dentro Ah ora cosa Non ho sentito nulla OMG hanno un lato così forte Devi essere spaventoso Ti stava inseguendo sul gokart La sua nascita alla morte è stata molto triste Ok era strano Stava cacando ovunque sulla mappa Ed era disgustoso Cosa sta succedendo Sto solo facendo la cacca Aveva una famiglia che lo aiutava Mostrami la tua famiglia Guarda dietro di te Dolce Per me sei una brava persona E vai al bene Lanciava persone da un'altezza di 100 metri dal suolo Non saldare finché non trovi un posto sicuro dove terra Wow è stato molto brutto Aveva dei bambini nel suo nido che erano suoi figli Wow penso che sia il momento I miei bellissimi bambini Può gliciare e portarti fuori dalla mappa al nuovo capitolo Ha rapito tutti gli amici arcobaleno nel suo nido e li ha mangiati Aspetta cosa Cosa stanno facendo Bru? Distruggiamoli Ah facile Che diavolo Porta i giocatori nel suo nido e li spaventa Wow bello spavento Ma sei cattivo Dovevi raccoglierli tutti ma poi hanno creato un nuovo mostro Siete tutti raccolti quindi cambia il mostro Ok Che diavolo Stavano diventando ultra grandi e volevano cambiare la città Aspetta Che cos'è questo? OMG Questa è un'apocalisse Erano ovunque e non potevi muoverti Per me sei la peggiore persona Ciao Ora per il prossimo Era una persona normale ma lo hanno cambiato Wow era la tua vera faccia E' stato trasformato in un supereroe e ha iniziato a combattere con il giardino di Bambam Ragazzi mettete mi piace e iscrivetevi e vi sveglierete con uno miliardo di rocks C'è successo più di quanto sia successo nella mia intera vita Si è seduto sulla sedia del re e ha fatto risorgere un esercito di amici blu Siete il mio esercito conquisteremo il mondo Wow incredibile Si è seduto sulla sedia del re ed è morto perché era inutile Sono Il me sei buono Ha trasformato i bambini in amici arcobaleno prima di diventare un mostro OMG bro Questo è male Si è accidentalmente trasformato in un mostro Che diavolo Ha mostrato le facce di ogni nuovo e vecchio amico arcobaleno e tutti l'hanno vista Ok vediamo il tuo volto No per favore Cosa? Bello Prossimo arancione Prossimo blu Ancora Prossimo verde Vediamo Cielo spezia Pensavi che ti stessi sentendo Prossimo rosso Bruscello Perché? Stavo solo facendo un video Prossimo Tante teste Cosa? Nonno Eri teste per tutto questo tempo Allora prossimo viola Amico Kaizenat ti ama Amico rosa E ultimo ma non meno importante Ok prossimo Ha rubato i colori da ogni ragazza amica arcobaleno La sua ragazza ha perso i suoi colori e lui ha sacrificato i suoi colori per salvata Omg era bellissimo Rosso vai al bene Prossimo Quando era più giovane non poteva smettere di crescere nel sonno e poi si è trasformato in un amico viola Buonanotte figlio Buonanotte mamma non mi sento molto bene Figlio cosa sta succedendo? Omg Wow è un bambino strano Ma va bene Era nel condotto dell'aria ma qualcuno lo ha rubato e cambiato Omg spaventoso Dopo il cambiamento stava catturando persone dall'acqua nel nuovo capitolo Wow è figo Qualcuno lo ha messo nel water ed era bloccato lì Che diavolo Dopo che un ragazzo lo ha aiutato è diventato famoso Wow bene per loro Aveva braccia così lunghe che rapiva le persone dall'altra parte della mappa Questa è un'abilità molto buona Per me sei buono Aspetta dove è il prossimo Vediamo cosa hai fatto Ti faceva prendere un colpo di paura quando andavi nella direzione sbagliata in carta Wow Ok prossimo Ha creato una stanza segreta nel pavimento Aspetta quale stanza segreta? Ha installato Acre ed era troppo veloce Sono troppo lento Ho bisogno di girare Acre Ha mangiato i due e tutti hanno visto quello Hai mangiato i due cosa? Grazie per avermi ricordato che è ora di cena Era male Mangiava troppo ed è esploso Questo cibo è così buono Aspetta non mi sento così bene Per me sei una persona cattiva mi dispiace Prossimo È diventato troppo grande ed era più grande della mappa Cos'era questo omg? Ha distrutto accidentalmente la ruota panoramica Wow bella ruota Wow questa è accesa La sua danza era accesa Mostrami Ha scaricato Acre ed era troppo alto Ok bro Non tutto andava bene Ma nel complesso sei una buona persona Ok prossimo Nonno Era il papà degli amici arcobaleno Ha preso un colpo in testa e si è incastrato sulle montagne mosse Wow era una buona scena L'amico giallo lo ha portato nel suo nido e ha cercato di mangiarlo ma il nonno lo ha ucciso L'amico giallo mi ha rapito qui È ora di vendicarsi Va bene E mi sei un buon nonno Ok ora per il prossimo Tamataki Stava giocando con gli amici arcobaleno ed è stato preso dal giallo OMG sei un originale Ha provato a spaventare gli amici arcobaleno ma ha avuto uno spavento e è morto Ti ucciderò Vieni Ah prendi la L Facile È stato tagliato a metà dall'amico rosso e poi gli ha aggiunto una nuova testa Tamataki Sei troppo dolce Andare al bene Si sono uniti agli amici arcobaleno e hanno avuto un colpo di paura OMG Strano Sono tutti morti a causa loro Hanno fatto una lotta di spaventi e il giardino di Bambana è morto Ok ragazzi Gli amici arcobaleno sono migliori Mi dispiace E penso che l'ultimo sia qui Wabox OMG Erano bambini che cantavano prima ma si sono trasformati in mostri Ah questi ragazzi sono incredibili Ora li cambierò Hanno iniziato a cantare una canzone che ha distrutto gli amici arcobaleno Ok ragazzi è stato fantastico Grazie e bye al bene È il mio turno Lava o testa di Luki Luki Wow Arancione Ne voglio un altro Figo E il prossimo Testa di Luki o senza occhi Testa di Luki Viso spaventoso o Luki viola Luki viola Luki ciano o diventa grasso Ne voglio un altro Figo Ho 5 Luki Sedia o macchina Ovviamente macchina Sono diventato un Luki Giallo o rosa Giallo Wow Zaino Ali o elicottero Elicottero Un dente o molti denti Prendo molti denti Due occhi Prendo due Testa da uccello o testa da robot Sceglierò testa da uccello L'ultimo Coda da uccello o coda da volpini Ovviamente sceglierò coda da uccello Sono giallo Ciano o giallo Sceglierò il ciano Wow Zanna grande o zanna stretta Stretta Coda blu Sceglierò blu Testa di banana Sceglierò testa di banana Figo Ok L'ultimo Occhi o senza occhi Voglio rimanere con gli occhi Wow Ora sono ciano Ragazzi Ho una brutta notizia Cosa mamma? Vostro padre Amico rosso È morto No papà Ragazzi Per favore trovate il suo assassino L'assassino aveva questa voce Mostrami la tua voce Non un assassino Mostrami la tua voce Ok non sei tu È il tuo momento Non tu Ora è il vostro turno ragazzi Ok non tu Mostrami la tua voce È il tuo momento Tu non assassino Ciao arancione Mostrami la tua voce Non sei un assassino Mostrami la tua voce Ora è il tuo momento Non di nuovo tu Ora toccate Non lui Mostrami la tua voce Ragazzo spaventoso mostrami la tua voce Controlla la tua voce Ciao ragazzi Mostratemi le vostre voce Per favore Mostrami la tua voce Oddio sei un assassino Ragazzi controllate la vostra altezza Ok io sono il primo Sei troppo piccolo Adatta perfettamente Entra il percorso verso lo scivolo Diamoci un'occhiata Ok prima giallo Wow sto facendo un aggiornamento Sono il prossimo Vai Oh no Rosso Wow sono l'ultimo Aspetta Ciano e Viola Wow sembri fantastico Per ottenere l'aggiornamento successivo Vinci nella competizione di spaventi Vai per primo Oddio ti darò una B Prossimo Bello ma una C Prossimo Troppo divertente Troppo F Mi dispiace Prossimo Oddio ti darò una D Il prossimo è la ragazza Lucky Così carina Una B Arancione Una C Rosa Ti darò una B Il prossimo è la ragazza Viola nella botola Ti darò una D Ok prossimo Bello ti darò una B Wow vediamo Ti darò una C Anche te Ma senza il bus Una B Prossimo F Non mi piace Verifichiamo il prossimo Oddio una B Bello Prossimo Bello Blu arrugginito Una C Blu giallo Una D Rosso Andiamo Una B Il prossimo è il ciano Wow Incredibile Ti darò una A E Il prossimo è il giallo F Questo non mi piace Il prossimo Oddio ti darò una D Marrone Non male Una B Che bella ragazza Wow Anche una B Rosso La ragazza era migliore Ti caccerò F Palla blu Bello Una B La prossima volta è blu semplice Gli darò una C Il prossimo è verde No No Una D Mi dispiace E la versione femminile Mi piace Una B Giallo Wow Oh mio Dio Ah e E l'ultima Anche una a più Siete fantastici ragazzi Wow Sento qualcosa Anche io Oddio Bello Ci siamo migliorati Per ottenere l'aggiornamento successivo Mostra tutti i volti degli amici dell'arcobaleno Ok Prima E vediamo una foto reale Bello Oh nero Non mostrare la mia faccia Scusa Lo farò io Oddio Prossimo Bello Bello vero volto fratello Obama Prossimo Mio fratello Oddio No Sì Sì Ah fratello Cosa Capellone nerd Oh my gosh Simile al vero E l'ultimo Oh nero Non mostrare la mia faccia Lo farò Dovrei Che diavolo L'ho fatto Sento qualcosa Ho fatto l'aggiornamento Bene Ok Ora devo scoprire Quale è vero e quale è falso Per fargli fare l'aggiornamento Verificherò le vostre voci Ok Il primo Non è falso Oddio Bravo Ah che voce carina Prossimo Ok Il prossimo Non è falso Verifichiamo la tua Voce strana Il prossimo Non è un falso Quattro sinistra H.M. Sospetto Non è falso Tu sei il vero L'ultimo Mom doesn't love you Your dad left you OMG sei falso Ti elimino Prossimo aggiornamento Wow sembri perfetti Bene Ora ne sono rimasti unici Ora controllerò tutti i loro jumpscare Il primo Ume Non è un sospetto Va bene Andiamo avanti OMG bello non sei falso Bene il terzo OMG è stato spaventoso Ma tu sei reale Bene Bene il prossimo Controlliamo il tuo Sospetto Bene il prossimo Andiamo Sono morto E è stato strano Il prossimo OMG pazzo Sospetto Il prossimo OMG wow Ma non sei un falso Prossimo Bene Non è un falso Il prossimo Strano Ma il prossimo Non è un falso E ora l'ultimo OMG sei falso Va bene Ce l'abbiamo fatta È ora di fare l'aggiornamento Wow sembri cool Il prossimo passo Ora devi fare dei disegni Il primo Non male Il secondo Va bene Buono Il prossimo LOL Che brutti disegni Bene il quarto H.M. Sospetto Ah ma Successivo OMG lol È strano Il prossimo Anche sospetto Penso che tu sia falso Andiamo avanti Bello Simpatico Orso blu E l'ultimo Oh non è vero OMG sei il falso Mi dispiace ma ti elimino Prossimo aggiornamento Wow sembri cool Ne restano nove Ora ti muterò e vedremo cosa ne viene fuori Sento qualcosa Oh non Oddio Ok Il prossimo Non un sospetto Bene Wow che enorme Prossimo Oddio Che diavolo Che diavolo Inferno Ok Il prossimo Strano Oddio Blu difettoso E l'ultimo No Non farlo Mi farò una risata Oddio Sei falso No Sono reale Ti eliminerò Ti eliminerò Ok ce l'ho fatta Bene Bello Ne restano Ho il compleanno oggi E devo vedere chi è reale e chi è falso Lo verificherò tramite i regali Andiamo Il primo M Questo non è l'amico blu Oddio Sei falso Vai avanti Oddio Oh my gosh Ok controlliamo il prossimo Wow Una torta Mi piace Ah Oddio Baby blu Ok Il prossimo Oddio È quello che farebbe l'amico blu reale Ok Il prossimo regalo Oddio Un mutante rosso Prossimo regalo Oddio Ragazzi Siete quelli veri Prossimo regalo Oddio Che diavolo E l'ultimo Oddio Un gucci schibi Falso Ti eliminerò Bene Ne restano sei Va bene Ora controllerò i vostri jump scares Prima Tu sei quello vero Il prossimo Strami Ma va bene Il prossimo Sospetto Successivo Buono Real Omg Bello L'ultimo Sei falso Mi dispiace Cinque sinistra Ora dobbiamo vedere i vostri volti sotto la maschera Fallo Popcat Va bene Andiamo Che diamine Obama Il prossimo E l'ultimo Omg L'ultimo blu È falso Dobbiamo eliminarlo Lo brucerò Va bene Ne restano 4 E vediamo il prossimo Rivelazione del talento nel canto Verifichiamo i migliori Prima E poi Tom Il ultimo Ok Ok Il secondo E l'ultimo Sono i migliori Rimangono solo 2 Controlliamo gli ultimi jump scares Uno sarà falso Va bene l'ultimo Dammi i tuoi figli No Lo sento Il giorno dopo Finalmente ti ho trovato E ragazzo, ti adotterò Misuriamo Sei quasi come una modella Faremo un sacco di soldi da te Guarda cosa ho trovato Cos'è questo? Non riesco a respirare Prenditi cura di lui Sorella Ti odio Cosa? Sono nella sabbia Aiuto Questo No, per favore È il mio incubo Ciao È troppo No, per favore No, non sarai mai alto come me Non so nuotare Tocco a me Aiutami, non ho ossigeno Oh my god Lo squalo sta arrivando Dove è mio figlio? Basso noob Dobbiamo fare un'operazione in fretta Morirà Non mollare Stanno facendo l'operazione Stanno facendo l'operazione Cos'è questo? Glù Wow, spaventoso o carino? Carino Oh no, no, no Sono spaventoso e brutto Sta morendo Magro o grasso? Magro Lingua lunga Guarda, mi sto peggiorando Denti paurosi Bello Calvo Ochi Un occhio Sembro disgustoso Mamma, sono tornato Stai diventando più alto Stai diventando più alto Quasi morto Misurati Sei brutto Cinque anni Ah, sono vecchio Tempo di trollare Happy Il prossimo è l'orso Cosa è successo? Sentò qualcuno Mi dispiace Stai andando al riformatorio No, per favore, sorella Ah, ciao Sfigato Mio Dio, non sembra male Ah, così debole Oh my God Forse no Ciao Sfigato 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 Oh no Ah Get over here And coming Non so nuotare Aiuto Ti annegheremo Oh no Em, dove sono? Stanze nascoste? Mio Dio, devo nascondermi Tempo di mangiare No Em, devo uscire Mangiami sono debole comunque Non posso aiutarti Cosa? Sei tornato Sì Iscriviti e metti mi piace se vuoi Robux gratis No God No Meanwhile Torneo per il miglior modello Oh my God Non può essere così Ah, perdenti Adesso mamma Ah, ho vinto Salta oltre questo per essere più alto Sì Oh my God Andiamo Wow Bello Bello Wow Wow Noni Cosa sta facendo? Non può essere così Ragazzi andiamo Vieni qui Sarò più alto di te Arg no Ah, hai perso il razzo È pazza Nu capo Ah Non mollare Popkat Va bene capo Oh my God Nu Ah, andiamo Cos'è questo? Oh Oh my God Ah L'ultimo Oh my God Nani? Wow Sorella dove sei? Perché? Ah Non può essere così 15 anni Ho perso le gambe Sei ancora piccolo Ma ero alto Sta mentendo Nu Non lo sono Stai andando in prigione Non ti vogliamo più Torna se sei più alto No per favore Ah piccolo prigioniero Nu 25 anni Non mi batterai mai Piccolo Facciamo un torneo Ok Tempo di saltare Miramene Oh my God Ah Sono più alto Di te Cosa? Oh my God Cos'è questo? Questo torneo è solo per quattro persone Ciao Wait a minute Ehi Abbarato Non mi interessa Inizio L'ho preso Ehi 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 A Prossimo difficile Prima io Ah Hola cosa Cos'è Ani Grazie per il boost Grazie per il boost Superare la linea Attraversare la linea No Ho vinto Ah Cosa? Perché? Non ci posso credere Non può essere così Oh no L'ho ucciso Dove sono? Dio Oh ciao Popka Oh mio Dio ciao Stava aiutando la madre malata Ha mangiato il suo migliore amico Questo secondo non è quello che pensi Era un bullo Ok Prendi il mio potere Sono fuori Grazie Primo Vediamo cosa hai fatto Si prendeva cura di sua madre Wow È bello Aveva poteri speciali Anche questo è bello davvero Grazie Stava tirando i bambini nella bocca da erazione Mangiava bambini grassi Oh no 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 Male Vai qui Prossimo Tipo verde Ehi Catturava e mangiava bambini Era troppo alto e colpiva lo stipite della porta Distruggeva tutti i giocatoli Si innamorava di mamma gambe lunghe Wow Quest'ultimo Strano davvero davvero Era cieco Quindi non mi vedi? Si Vai qui non posso metterti nel rosso Ehi è rosso Non vedo No Dai Ultimo Il mio allenatore Ciao per favore paradiso Amava i cani Era il più veloce del mondo Rubava scarpe e ci metteva del TNT Ehi È male Mangiava i partecipanti per vincere nelle competizioni di corsa Anche questo è male Amava i giocatoli Devo mandarti in paradiso Grazie No ero cattivo Tu sei il mio allenatore Ma ero cattivo Non farlo Qui è il mio posto Bambini questo è il miglior parco giochi dell'universo Venite a giocare È molto sicuro Il nostro parco giochi è un grande fallimento edilizio Guardate Dobbiamo fermarlo Non vi ascolterò Ah è ora di cambiare alcuni bambini Il giorno successivo nella vita degli amici dell'arcobaleno Devo scivolare su di esso Stesso Prima controlla la tua altezza Perché questi bambini sono andati di senza Non fare domande stupide Sono il primo Oh no Non preoccuparti Vai sei carina Grazie Spero di essere carina anch'io No non lo sei Vai sullo scivolo per bambini Forse qui troverò degli amici Amiamo fortnite Amiamo fortnite Tempo per lo scivolo Ho paura Omg cosa è appena successo Non scivolare Cosa? Ehi fermati Qualcosa sta prendendo i bambini Cosa? Cosa? Omg Questo parco giochi non è normale Ehi Uscite tutti da questo parco giochi È infestato Cosa? Correte subito Sicurezza Portatelo via Cosa? Vai via ragazzo Mai Omg Esci Secondo tentativo Dot mi ringrazia per questa voce fuori campo Ok Sono travestito Ciao Controlla la tua altezza Ok Nessun problema Signore Oh Sono così vicino Vai via noob Sei troppo piccolo No Secondo tentativo Devo entrare Cos'è questo posto? Fammi entrare in questo posto Sì Forza Scivola più veloce Ok Noob Aspetta Morirai Ah bambino Non può essere così Ragazzi Smettetela subito Ah perdente Hai paura di scivolare? Facile Aspetta Cosa? Non mi schioderò mai da questo Stai perdendo nella nostra battaglia? Mai Wow Questo scivolo mi ha fatto diventare alto E' magico Cosa? Come? Ora giocherai al mio gioco Ah Ok Facciamo un torneo La prossima diapositiva è questa Per 10 dollari Voglio 10 dollari Puoi andare Cosa? E' appena morto Signore Chi ha fatto questo scivolo? Non posso dire Troppo buono E il mio turno Sei troppo piccolo Sei troppo piccolo Ah 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 Una La prossima diapositiva è per 1000 dollari e si trova in paradiso Cosa? Siamo in paradiso? E' cento volte più alto del precedente Prima io Fermarsi Controllare l'altezza Ok lo farò Puoi andare Non mi sento così bene Il mio turno No Cosa? Il mio turno Entrambi non potete andare Devo arrivare più in alto Prima di mia sorella Aspetta Cos'è questo? Saltami addosso Oh Wow Sono diventata più alta Ora su di me Ok Ah Andiamo Arriverò a questo scivolo Come faccio a diventare più alto? Guarda dietro di te Andiamo Facile Sparali Prossimo salto Andiamo Non puoi vincere Ok Il prossimo è sospetto L'ho fatto Ah Andiamo E' l'ultimo salto Grande salto Sì Sei tornato? Sì Sei a posto? Sì Sto bene anch'io Ok Ora puoi scivolare Ho paura Vai Guardate Abbonatevi O questo tizio Sarà nel vostro bagno Non rischiate Ma sono vivo Sì Oh my god Bravo Anch'io sono bravo Ok No Come fai ad essere vivo? Aspetta Sei stato rosso Per tutto il tempo? Chiamo la polizia E' ora Soprita sotto il parco giochi Dove? Fammi vedere Ha catturato un amico viola e lo stava maltrattando Non è possibile È vero? Sì Vai in prigione per il resto della tua vita Vai in prigione per il resto della tua vita Li avrebbe distrutti Non è possibile che abbia la tua famiglia Sì Per favore fateci uscire Per favore Non è una cosa negativa Mi dispiace tanto Divenne estremamente triste E pianse tutti i giorni dopo che l'amico rosso lo catturò No Non puoi perdere i tuoi colori Non arrenderti Bene Ok Ti lascerò uscire Ma dimmi come sei diventato viola E' molto molto triste Ehi No Dove è andato? Aspettare Ciao Giorgie Ciao Vieni qui Cosa stai facendo? Lasciami in pace Ti trasformerò in un amico viola No Ora ti lascio qui No 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 Cento anni dopo Sono passati cento anni Devo uscire da qui Corri ragazzo Meriti di essere libero Ne sono rimasti solo due Perché stavi lavorando su quegli scivoli? Ho cercato di fermarlo Era un costruttore del parco giochi E sapeva che era pericoloso Stava cercando di fermare l'amico rosso Ma l'ha trasformato in questo Nooo Ok Queste due cose sono sufficienti Darti un sì Grazie La sua famiglia lo odia dopo che è andato in prigione Ok ti meriti di essere libero amico mio Vai Grazie L'ultimo Famiglia dell'amico rosso Era il mio ragazzo Non io Stavano aiutando l'amico rosso a prendere i bambini al parco giochi Are you serious right now? Oh wow Il ragazzo era estremamente cattivo come suo padre Quindi ha cresciuto questo bambino perché fosse cattivo come lui Smettila Rosso Oh no Sono diventati tristi dopo essere finiti in prigione Meritate di essere tristi No Vai in prigione Per favore No È stata una giornata molto produttiva Yono Sono felice che il rosso sia andato in prigione Riprendiamo il nostro torneo Non so se è sicuro Ma costa 10.000 dollari Oh mio dio Chi l'ha costruito? Non è possibile Non so nulla di questo scivolo Chi ha costruito questo? Ah è stato facile La mia schiena Oh mio dio Non è sicuro Ma devo farlo Chi l'ha messo qui? Ma l'abbiamo fatto È il momento delle ultime scivolate La prossima scivolata è troppo pericolosa per te Noob È per me Mai Oh mio dio Forse è così Vogliamo scivolare? Andare Aspetta Chi stava facendo questi scivoli? Non sembra sicuro Scivolare Ho paura Oh no Guarda È stato distrutto Non scivolo da questo Ti arrendi Ah Ah beh Ok fallo prima Facile Non mi sento così bene Oh mio dio Non so se è viva Ma fammi provare Sono ancora vivo Ok la prossima diapositiva è super pericolosa Solo L1% sopravvive su questo scivolo Ok vado io per primo Andiamo Ce l'ho fatta Oh mio dio Non posso crederti Ok Tocca a me Jenna No È a morta Perché abbiamo iniziato tutto questo? Aspetta non riesco a vedere Ti unirai a lei No Sono morta anch'io Oh mio dio Dove sono? Dimmi Sei morto Ora devi votare queste persone per tornare sulla terra Chi è il primo? Adamo Sì Stava diventando troppo forte Ah Smetti di sollevare Sei troppo grande Male Ha fatto il braccio di ferro con un superman Oh my god E chi ha vinto? Oh mio dio Ok Ho capito chi ha vinto Ma il combattimento è brutto Rosso Aveva il potere di cambiare il suo corpo Wow Che figata Ma comunque non puoi essere bravo Il prossimo Io sono Benten Wow ho guardato il tuo show quando ero giovane Buono Si trasformava in un mostro diverso ogni volta che toccava l'orologio Aspetta Questo orologio? Sì Questa evoluzione è strana Unne lasciami cambiare Che cos'è? Il suo orologio si è guastato e lo ha trasformato accidentalmente in Pibi Era bloccato nel corpo di Pibi per tutta la vita Ok non sei una persona cattiva Vai verso il bene Aveva cento figli e mancava il poliziotto Aspetta cosa? Cento? Questo è mio figlio Ah questo è troppo figli Amava mangiare le ciambelle Lo adoro Non posso biasimarti Voleva distruggere il paradiso Smettila di distruggere il paradiso Stai andando male Ah E' stato facile Il prossimo F padre stava picchiando F figlio Oh no Non mi piace Perché? Papà fermati OMG hai visto questo? Brutto Stavano mangiando alfabeto a cena Anche questo è brutto Mamma e figlio avevano paura del padre perché si arrabbiava molto Molto velocemente Non meriti il paradiso Andate via Grazie Ok sono tornato sulla terra ma ora devo vendicarmi Ehi so che sei stato tu a fare tutto questo Ah Facciamo l'accordo Quale accordo? M certo Scivola qui Se perdi andrai in prigione per sempre Ma se perdo io potrai trasformarmi in un amico arcobaleno Affare Figlio prova prima Ho paura Ehi troppo veloce Non è sopravvissuto Il tuo turno Cosa? Ai Ce l'ho fatta OMG Ora controlliamo come lo fa Red Come ha fatto? Tocca a me Andiamo È esploso Così Bluecaven sta tornando alla no... Ti amo Oh my god Qualcuno mi ha allungato Mamma Papà Popcat mi ha trollato Che cosa? Per favore non parlare Devo imparare Wow wow sono intelligente Secchione Secchione Perché hai trollato tua sorella? Cosa? Oh my god Mi ha fatto male Non ero io Non ti credo Inizia a sollevare Aiutami Di note Le mie ossa Aiuto Genitori Dove sono? Guarda cosa gli hai fatto Se perdi sei fuori dalla nostra famiglia Ma non ero io Sei stato tu Inizia Oh me ha rubato il mio Non può Devo imparare Wow l'ho fatto Fammi imparare dove è il suo punto debole Qui Ah Difficile Cosa non piace ai King Kong? Dita Facile Vediamo come saltare più in alto Bello Sta arrivando Godzilla Ah L'ultimo Non può essere così Per favore no Non ero io Davvero Ti odio Non tornare più La note successiva Sono troppo alta Genitori Sto chiamando la polizia Sono così triste Sei arrestato Cosa? Non funziona Dimmi cosa hai fatto Non lo so Come niente Stai allungando la gente di notte Surprise E' falso No Prigione Sono troppo intelligente Uscirò Guarda Ha perso la chiave Facile Facile Veloce Hai È stato disgustoso Sei troppo intelligente Dove mi hai portato? Dobbiamo renderti stupido No Ti prego No Sono così stupida Non so come camminare Non può essere così Devo imparare Wow Matematica Ehi Cosa? Abbiamo bisogno di te E che? Cosa hai fatto? Mi dimetto da questo lavoro Oh Ok Ok Prima di tutto Hulk Non ho fatto niente OMG Fratello Vediamo cosa hai fatto E' stato catturato Mentre distruggeva edifici Mostrami il filmato Qui signore Grazie fratello Ridammi mio figlio Mai Dai ridammielo No Mi piace e sottoscrivi la casa uguale per questo bambino Wow Era triste Stavi cercando di salvare tua figlia Grazie Ha bevuto la pozione ed è diventato verde Aspetta Questo è davvero brutto Vai qui Ha vinto un gioco di tiro alla fine con i calamari grazie ai suoi muscoli Va bene Sei libero Bello Il prossimo è difficile OMG Gru e i Minions Cosa? Liberi Lasciateci liberi Ha rubato la luna Questo è male Usciva con le ragazze Minion E M Questo è strano Gruto Cosa? Ha sganciato una bomba nucleare sulla terra Aspetta questo è super cattivo fratello E l'ultima cosa Ha fatto uscire il virus dal barattolo con il dottore Aspetta È vero? Sì OMG No Ehi Vai in prigione No Sì Sì Dammi la prossima Il prossimo Pibi Cosa? OMG Sembra un'immagine diciata Lasciami in pace No 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 Smettila Vediamo cosa hai fatto Stava creando i bambini È ingiusto Smettila di farlo Ha un coltello in tasca Stava scavando sotto la prigione Hai scavato sotto la prigione? No Prendetela Ehi Torna indietro Mai Per favore Mio bambino è triste Oh È triste Vieni con noi Troveremo una casa per il tuo bambino Ma tu andrai in prigione OMG Questo lavoro è difficile Amici dell'arcobaleno Ho sentito parlare di te Io sono buono Hai iniziato a sparare al supermercato Wow è troppo Il prossimo Ato Ha dato fuoco alla sua scuola Fratello smettila Questo è male Il prossimo Ha punito l'insegnante con un trucco orribile e i capelli bruciati Sei cattivo Vai nella tua cella Sei libero per questo Grazie Finalmente Devo imparare di più Wow È molto Ok Sono pronto Genitori Statisticamente è impossibile che sia tornato Non mi importa Torna quando sarai più forte Ok ok OMG Devo allenarmi come un professionista Wow sta funzionando Ora il mio cervello dice di sollevare Cominciamo Wow il prossimo Wow guardami Difficile Ma funzionante Ce l'ho fatta L'ultimo Lavorare come sempre Perché ti sta facendo questo Genitori Ora posso risolvere chi sta facendo questo Wow Sì Di notte Ok bello Dormire E mi nasconderò qui Sei dolce È ora di prenderlo È ora di prenderlo Torna indietro Ah ti ho preso Dove è andato Sto entrando Vieni qui Dove sono Ehi È scapato Vediamo cos'è questo La vita dell'amico arcobaleno Dacci i tuoi soldi ragazzo No Aiuto Ah Ehi Fermati Oh mio dio Grazie Vuoi essere la mia ragazza Sì Vuoi sposarmi Mi prendo i tuoi figli Troveremo i nostri figli Non preoccuparti Wow questa storia era triste Ma ho perso lui Oh mio dio OMG Lei è così alta Aiutami È troppo Sto richiamando la polizia No Per favore Non se ne parla Il mio vecchio lavoro Ciao sono un uomo davanti alla finestra Ha rotto le ossa ai bambini Male 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 Si fermava davanti alle porte delle persone per ore e le fissava E' strano ma va bene L'ultimo Si è sbraiato facilmente sotto il letto del bambino Strano e illegale Andrà in prigione Il prossimo Non c'è modo Vieni qui Gargamella e i Puffi Sì Hanno attaccato la città dei piccoli Puffi Fecero una zuppa di Puffi Ha schiacciato le case dei Puffi con il suo chiede Ok sei una persona cattiva Ma tu sei libero Bello Oh no Jenna Vieni qui Smettila di baciare Aiuto Ok vediamo Aveva una cotta per PopCat N mi sento strano a Bene Ha hackerato il computer di PopCat Stava insultando in un gioco per bambini Bello bello Vai in prigione Puoi andare No Ah Easy È ora di risolvere l'ultima domanda Ho lavorato su questo per così tanto tempo E so come prenderlo Ah No Non l'ho fatto io Siete arrestati Ciao a tutti Ti ho preso Quindi ora devo giudicarvi Ma prima Non ho fatto nulla di male Agrediva i bambini all'asilo Truffava la gente per soldi Non è un bravo ragazzo Non mi interessa Stop Lui impiega illegalmente dei bambini per lavorare per lui Dio mio Sei una persona cattiva fratello Prossimo Prendevano i giocatori e li schiacciavano È vero questo? No No Sì lo era No È il femma Cattivo Cattivo Creditavano le persone alla fabbrica Bene Cambiavano le persone in giocattoli Oh my god Molto male Andrei in prigione No No Oh no Il giocatore è il prossimo Sei stato in prigione? Sì Mi dispiace Faceva il bullo a Ugiwaki Non bene Mi dispiace Questo è per te Oh grazie Questo è stato bene Apriva le porte con il suo grab pack Ha gettato papà e mamma long legs in una tritta carne Non sei così cattivo Sei libero Ok solo due rimasti Ciao sono un mangiatore di treni Attaccava i nemici ai binari e li faceva investire Dio era brutto fratello Non bene Non bene Mi dispiace Vediamo il prossimo Demoliva gli edifici Perché? Non lo so No 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 Fermati Sei cattivo Mangiava i bambini dopo averli presi Sei super cattivo Qui E' l'ultimo Perché hai fatto questo? Posso mostrarti Vuoi vedere la mia faccia? Sì Questo è il mio amico Dio mio Amo tua sorella Aspetta qui Figliolo Vieni con me No Ti creerò un nuovo account Cominciamo Questi occhi Poi questa bocca La compro Alla testa Guarda un amico viola Wow Questo è un completo Devo comprarlo E la corona Mettiamocelo Oh my god Oh hell no 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 Ah Per favore Smetti Sto cambiando a causa tua Bene Indossiamo le altre cose Cambia la pelle del corpo Ora sei perfetto Vediamo Oddio. Sembro un trentenne inquietante. Ora trovo una nuova famiglia. Sei un noob. Ehi, smetti. Sei brutto. Mi vendicherò di te. Ehi, vai via. Grazie di no. Ti prenderò. Ah. Ciao ragazzi, sono tornata. Wait a minute. Cosa? È stato orribile. Sì, sì ma... Ehi. Ho visto tutto. No, non l'hai fatto. Dirò all'insegnante. Non so chi l'abbia fatto. Vieni qui. Torna. Sono arrabbiato. Ah, sei bloccato. Oh no. No. Mi ha mangiato. Oh my god. Dieci anni dopo. Quindi chi vuoi prendere? Questo è brutto. Per favore. Li prendo. Evviva. Evviva. Nessuno mi vuole. Ho 11 anni. Ti troveremo una nuova famiglia. Vieni. Siamo la famiglia del direttore. Oh wow. Non unirti a noi. Mettevano pressione al figlio per avere i voti migliori picchiandolo con un righello. No, ho preso un F. Cosa? 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 Smetti di picchiare questo ragazzo. Cacciavano i bambini da scuola per un brutto voto. Solo uno. Sì. Devano un problema con pisciare su un water chiuso. Aspetta cosa? Fratello. Hanno allagato l'intero bagno con acqua gialla a causa del loro problema. Mamma e papà si baciavano durante la lezione mentre tutti i bambini guardavano. Ti amo. Ti amo. Gli appuntamenti online sono brutti. Vogliono adottare l'amico Viola e trasformarlo in un seccione. Non diventerò mai uno sfidato. Vieni qui. No, no, no! Smetti. Però da te. Il giorno dopo. Prossima famiglia. A. F. B. B. Insegnano a suo figlio l'alfabeto 24 su 7 mentre è stanco. Tenevano altre lettere dell'alfabeto in prigione. Aspetta cosa? Perché li metti in galera? Perché ci piace l'alfabeto? Facevano la cacca sul water senza aprirlo. Che diavolo? Oddio è troppo. Non posso unirmi a voi. Mi sento sono e triste. Troverai la tua famiglia. Preoccuparti. Ok scommetto. Ciao, sono Spongebob. Mangiavano troppo. Non voglio mangiare così tanto. Dovete. Hanno mangiato accidentalmente il loro bambino. Mi hanno mangiato. Il dottore ha detto loro che devono far uscire il loro bambino con la tacca e lo hanno fatto. Cagare fuori. Wow, è stato bello. Vivevano sott'acqua. Come sei? Sono sotto l'acqua. Ehi, non riesco a respirare sott'acqua. Scusa ma non ti voglio. Agri. Siamo arrabbiati. Oh my God! Ho perso le ossa. Oh prossima famiglia. Spero che sarà buona. Aveva cento figli contemporaneamente. Cosa? Guarda. Guarda. Troppo. Niente paura. Fratello, è stato brutto. Rilassati. Sono solo cloni. I suoi bambini lavoravano in fabbrica per lui. Vogliono fare un milione di bambini e conquistare il mondo. Sei una brutta persona. Non voglio essere adottato da te. Così mi vendicherò di te. Oh no! Ah, facile. Questa è l'ultima famiglia o ti caccio. Va bene, va bene. Wow, penso che siano perfetti. La mamma picchiava il papà. Cosa? Vieni qui, vecchio mio. Cosa? Il papà piangeva sempre a causa di sua moglie e riempiva la casa di lacrime. Costringevano il loro bambino a spaventare gli altri bambini. Erano al verde perché avevano speso tutti i loro soldi alla lotteria. No, questa famiglia è tragica. Per favore, l'ultima. No. Sono senza casa. Questo esperimento è molto brutto. È la tua fine a... Oh no! No. Chi sei? Come iscriversi per ottenere Robux gratis. Ti abbiamo salvato. Grazie mille. A GRR creerò un nuovo esperimento e uccidere... Bye, have a great time! Ora ti trasformerò in amici. Amore, amore, amore. Io. Essere alto o basso. Gambe o senza braccia. Braccio. Gambe. Ho perso le gambe. Cervello o faccia spaventosa. Entrambi. Wow. Zampe di cane. Bene. Dove sono? Mi sento strano. Facciamo uno spavento. Ho paura. Puzzolente. Sto glicciando. Stridio o cane? Stridio. Alto o grandi braccia? Pomodoro glicciato. E l'ultimo ha... Pronto. Cinque anni dopo. Wow. Sono più grande. Bene. Ora vieni con me. Papà. Attraversa questo per aggiornarti al mio livello. Wow. Papà, voglio essere come te. Dobbiamo prenderlo. Andiamo. Va bene. Blicciando. Hanno blicciato la mia corsa. Che numo. Rosa, arancioni o rosso? Rosa. Sto blicciando. Ho blicciato. Ruote occhi o senza occhi? Ruote. Macchina. Due teste. Ho un collo lungo. L'ultimo. Cacca. Wow wow. Sono potenziato. Sono tornato ma dove è mio padre? Ah, abbiamo preso tuo padre. No. Devo avere più potere. Wow. Oh no. Sì, no. Ho preso delle spine. L. Grande ciambella. Bello. Guarda quelle gambe. Bello. Ora devo trovare mio padre. Trent'anni dopo. Ok, ho trovato qualcosa. Sto entrando. La mia famiglia. Ti ucciderò. No. Sto chiamando la polizia. Stai chiamando la polizia? Sei arrestato. Perché io? Perché sei entrato in casa di qualcuno. No. Ehi, combatti con lui. No no no. Polizia, aiuto. Va bene, vieni con me. Grazie. Valutali per uscire di prigione. Oh, non sono il giudice ma ci proverò. Stava cercando di evadere dalla prigione con un razzo. Era divertente ma anche brutto. Ha scavato un tunnel sotterraneo dove ha catturato ogni cattiva persona. Aspetta cosa? Non mi prenderete mai. Ehi. Torna. Sotto il suo vestito c'era un goblin che lo controllava. Quindi non è Buzz. È un falso Buzz controllato da un goblin. Male. Oddio. Ok, prossimo. Mangiava le persone che entravano dalle porte. Perché l'hai fatto? Ti sono spaventato. Guardava le persone attraverso le finestre delle porte con l'uomo dalla finestra. Aveva un bambino con l'uomo dalla finestra. Ciao, fratello. Prossimo. Gru. Non ha amici oltre ai Minion. È triste. Usava i suoi amici per diventare il re della prigione. E meno male. I suoi amici si clonavano ogni giorno. Clonazione? Sì. Sì. Sì, ci stiamo clonando. Sì, ci stiamo clonando. Non di nuovo. Facile. Ok, vai libero. Grazie. Bello. Ne restano solo due. Ha fatto la cacca nella doccia della prigione. Non faceva mai la doccia così le persone morivano per il suo odore. Cavalcava così tanto il suo cavallo che il cavallo sveniva. Sei una brutta persona, mi dispiace. No. Ok, l'ultimo. Mangiava i membri della sua famiglia. Era davvero grassa. Oh, my God. Ha un problema allo stomaco e vomita su ogni prigioniero dopo aver mangiato. Quando dorme, fa la pipì e le persone che dormono sotto di lei si arrabbiano. Oh, wow. Queste cose sono strane. Ma tu sei buona. Grazie. Ora posso uscire? Sì. Sì, grazie. 99 anni. È passato molto tempo. Papà ti ha distrutto tutti. Sono così triste. Ehm, vieni qui. Ah? Sono in paradiso. Per favore votami. Cosa posso valutare? Catturava i bambini e li trasformava in cose spaventose. Questo è brutto? A me. Era in prigione 20 volte. Ha distrutto la vita e la famiglia dell'amico Viola. È lì una brutta persona. Oddio. Mamma, abbiamo triplette. Mamma, mamma. Siamo... Oh. È ora di prendere alcuni bambini. Bro. Mi prenderò cura di loro. Oh, grazie. Mille grazie. Bro. Entrate. No. Ora per l'editing. What? Sono qui. Anche? Oh, hell. Dove siamo? Sei in fabbrica. What? Veloce. Sta arrivando. Si spaventoso. Lingua lunga o denti affilati. Denti. Bao bao. What the dog do? Oh my god. Uccidiamolo. Facile. Vai avanti. Grosse gambe no. Vai. Faccia di cane. Bao bao. Ehi tu, amico. Mi dispiace. Shut up! Oh my god! Holy Jesus. What is that? Oh no. Vieni qui. Mai. Mi dispiace. Devo correre. Wow, sembro incredibile. Cosa ci hai fatto? Ah, vieni qui. Nel frattempo. Papà, dove stiamo andando? Stai zitto. Lascia me e tuo fratello al mio lavoro. Ah, lo abbiamo preso. No, God, please, no! È l'uomo davanti alla finestra. Oh no. Ehi, show speed. Oddio. Vediamo come sembra nella vita reale. Get over here! Cosa stai facendo? Dove sono? È il suo cervello. Farò delle foto per mio papà. Entrare. È questa la sua vera faccia. Oddio. Ecco a te. Thank you. Prenderò ogni amico arcobaleno. Posso aiutarti? No. Proverò. Ora di pranzo. Fatto. Aiuterò mio papà. Cosa ha fatto? Stava pedinando una ragazza. Aiuto. Pugno. Oh my God. Questo è molto male. Prossimo. Stava picchiando i bulli. Salta nel bullo. No, mi dispiace. Per favore, fermati. Ciao, ciao. Well done. Aiuto. Wow, wow, wow. È troppo. Vai in prigione. Questo è solo troppo disgustoso. Prossimo. È così rumoroso. Fai silenzio. Cosa ha fatto? Le mie orecchie. Era rumoroso. Male. Prossimo. Stava combattendo con Cartoon Cat. È facile. Andiamo. Brr. Quest'ultimo. Amico. Ok, sei una cattiva persona. Prigione. Oddio, è difficile. Ciao, puoi venire con me alla ventilazione. Un meh ok. Questo è per te. Wow, grazie signor clown. Ti mangerò a... No, per favore. Oddio, hai mangiato questo bambino. Punizione speciale. No, non questo. Prossimo. Ok, è ora. Cattivo, cattivo. E l'ultimo. Al cinema. Man. È difficile trovare l'amico arcobaleno. Aspettare. C'è qualcuno. Controlla uno dopo l'altro. Oddio. Vieni primo. Fammi vedere. Questo è per voi, ragazzi. È la fine. Questo è super brutto. Ok, prossimo. No, per favore. Dolcetto o scherzetto? No. Oh, delizioso. Stai mangiando troppi bambini. Morte. No. Sei il peggiore marito del mondo. Questa è la mazza da baseball più grande del mondo. Odio un marito e avevi una mazza. Male. Metti mi piace e iscriviti prima che lei cada. Ok, prossimo. SCP. Non vedo. Ho bisogno di una radiografia. Ecco qui lui. Mi piace molto. Ora è ora di cena. Fuggiamo dalla prigione. Amavi pidi. Mangi i bambini. E scappa dalla prigione. Torna in prigione. Oddio, è così vicino. Amico arcobaleno. Ciao, sono Cartoon Cat. Ehi, micio. Guardiamo dei cartoni animati. Gatto, cosa sta succedendo? O cos'è quello? Ehi, un dolce gatto e poi un cartone animato. Sono innocente. O di nuovo in prigione. Vieni, bambini. Caramelle gratis. O ok. Piccoli stupidi gattini. Hai trasformato i bambini in gatti. Male, male, male. Ok, l'ultimo prima dell'amico arcobaleno. O no. Mostrami il tuo volto. Magliano. Oddio, mostrami cosa hai fatto. Smetti di mangiare persone. Vattene o ti mangio il tuo fratellino. No. Facile. Ehi, figlio, ho bisogno del tuo aiuto. Devi rubare il cuore per me. Ehi, papà. Ok. O no, ci sono i laser. Devo stare attento. Oh! Oh, my God! Oh! Oh, my God! Ho quel cuore per te. Oh, grazie, figlio. Mangerò verdure perché la mia famiglia è povera. Sei Giorgio PD? Giorgio. O sei bravo? Bello. Ecco qui lui. Amico blu, ora tocca a te. Mostrami il tuo volto. No, non farlo. Sono scappato. Nu, papà sono tornato. Dove sei stato? Stavo cercando di aiutare. Diventa forte per aiutare. Ok, ok. Primo giorno in palestra. Boom. È troppo pesante. È troppo veloce. Ah, ah, ah. Vai via. Vattene. No! Sono così cattivi. Non posso arrendermi. Hop. Hopi. Hopi. Oh, my God! Wow, sto diventando più grande. Ah, prossimo. Oh, oh, my God! Wow, wow, wow. Ehi. Wow, wow, wow. Vieni qui, ragazzo. Ah, sono abbastanza forte. Sono tornato. Oh, no. Vieni qui, ragazzo. Oddio. Ah, ora tocca a te. Oh, no. Non tornare, ragazzo. No. Finché non risolvi qualcosa. Impossibile. Mi ha dato un calcio. Oddio. Cos'è questo? È l'amico arcobaleno. Posso prenderlo. Mi ha preso. Dove sono? Ha mangiato anche me. Oddio. Dovremmo scappare. Sì. Oh, no. Oddio. Non perdere o mi trasformerò in cacca. Viola. Amico blu. Wow, wow, wow. No. Non male. Verdure. Oh, no. Sono magro. Oh, no. Mi sto trasformando in cacca. Non posso. Cane o volare. Volare. Oh, wow. Posso volare. Alto o grandi braccia. Braccia. Oro non cacca. Andiamo. Fatto. Andiamo. Wow, non sembro male. Wait a minute. Aspetta. Oh, no. Ti ho preso. Oh, no. Yeah. Mostrami il tuo volto. What is that? Oddio. Perché? Ora vediamo il tuo vero volto. Ho visto il prossimo. Prendiamolo. Vieni qui. No. Aspetta, sta scappando. Lasciami in pace. Andiamo. Bello. Vieni, qui. Aspetta. L'ho fatto. In qualche modo. Sono veloce. Ciao, Lube. Devo essere più veloce. Fatto. Oh, my God. L'ho fatto. Ultimi due salti. Oh, my God. Devo correre all'aeroporto. Oddio, dove è andato? Forse aeroporto. Sono pronto. Oh, no. Il cliente. Voglio volare. Ok, mostrami la tua valigia. Cos'è questo? Sei sospetto. Come hai fatto a saperlo? Non so, sembra molto sospetto. Stava sempre premendo il pulsante rosso per fermare il gioco. Ha un piano per uccidere il pilota. Aspetta cosa? È falso. Ha distrutto un aereo prima. Impossibile. È stato un incidente. Stava uccidendo i membri dell'equitaggio. Non puoi andare. Perché? Prendi questo ragazzo. Ecco qui lui. Venom. Guardami. Ok, vediamo. Aspetta, è illegale. Ragazza è arma. Sono questo può andare. Ok. Lascia che ti controlli. Stava leccando le ragazze con la sua lunga lingua tossica. Questo è molto molto strano. Ha mangiato Spider-Man. Aspetta, questo è illegale. Mi dispiace. Si trasformava in Venom di notte. Mi dispiace sei troppo strano per andare. Prossimo. Banane. Sì, ok. Si è sposato con un Minion. Wow, è dolce. Stava attaccando le persone che erano in aereo. Puoi andare ma non attaccare. Un me perché indossi una maschera. Ciao, non sono un rapinatore. Allora cos'è questo? Non puoi avere questo sull'aereo. Mi dispiace. Aveva in programma di rubare un aereo. Aspetta cosa? Niente. Stavano rubando i neonati dalla sala parto. Ha passato cento giorni sotto il letto di una ragazza sconosciuta. O la amico è troppo. Non può andare. L'ultimo. Ehi. Cos'è questo? La mia cena. Never. Ehi. Vai in prigione. Come siamo sull'aereo? Qui. Stai qui nube ora. Il tuo viso. Wow, è il rico prima. Sì. Wow, l'ho fatto ma dove è l'ultimo? Oddio. Ti ho preso. Amanda. Mi dispiace. Papà. Figlio ho visto tutto. Ti voglio bene, mi dispiace. Vieni qui papà. Oh.